Quanto tempo ci vuole per fare amicizia con un coyote? Si può spiegare l'arte a un animale morto? Si può uscire dal campo semantico o la propria specie mettendosi sotto una coperta calda insieme a due leprimorte? Questa non me la spiego subito Comunque la risposta è sì, si può se vi chiamate Boyce anzi, se vi foste chiamate Boyce perché Boyce in realtà è morto ma se anche voi, come lui, avete guidato un eroe in guerra per la Lutwaffe e siete finiti in territorio più o meno nemico presi da una tribù nomade perché eravate quasi morti e messi dentro una palla di grasso e lana infiltrita per giorni e giorni per salvarvi allora forse potete anche voi Comunque ci arriviamo ma prima di tutto sigla Che cazzo mi sta camminando addosso che cazzo mi sta camminando addosso ma porra Nonostante un anno tra Australia e Asia che non so cosa sia peggio visto che in Australia c'erano gli scarafaggi nei supermercati uno scarafaggio che mi cammina sul piede anche se di quelli piccoli e carini europei mi dà comunque fastidio mai quanto una blatta di queste dimensioni sul cuscino ma questo mi è capitato a Roma pare che sia invasa dalle blatte del Nord Africa adesso Maggio 1921 nasce Joseph Beuys col senno di poi nasce in Germania ai tempi non sembra una grande idea cioè crescendo all'inizio figo hai cose tipo la gioventù italiana i roghi di libri tutte quelle cose che probabilmente erano anche abbastanza interessanti comunque fai tutte queste cose a un certo punto scegli un lavoro tranquillo che ne so guardiano allo zoo così ti fai un annetto disegnando tutti i vari animali fai pratica e poi scoppia la seconda guerra mondiale e siccome sei un vero patriota o che ne so siccome ti piace decidi di arruolarti nella Luftwaffe come pilota Beuys inizia quindi a prendere lezioni gli insegnano come si usa la radio i punti radio eccetera e nel frattempo continuano a studiare zoologia a disegnare a fare tutte le cose perché dentro di lui l'idea era comunque adesso vinciamo questa guerra al volo col cazzo però vinciamo questa guerra al volo e poi faccio l'artista chissà se davvero pensavano vinciamo questa guerra al volo e faccio cioè non che tutti volessero fare l'artista ma non me ne sono mai chiesto se nelle grandi guerre la gente andasse davvero a combattere pensando vinciamo aiuto eroe e poi casa cioè non è come fare il soldato oggi che vai in una missione sai che ti pagano tanto corrido i rischi però poi torni cioè ai tempi ti arruolavi volontario per una guerra infinita ok troppe riflessioni su questo 1943 sta lavorando alla metalliatrice su un aereo e disegnando che mi sembrano due cose piuttosto compatibili se non le fai contemporaneamente e quindi diventa la sua routine disegna tutti i giorni spara con la metalliatrice tutti i giorni poi la svolta 1944 si trova su un bombardiere che viene attaccato e abbattuto in Crimea si schianta in Crimea nota interessante lui dirà di essersi salvato perché non aveva la cintura di sicurezza questo perché l'altro tizio con lui sul bombardiere si praticamente disintegra all'impatto mentre lui viene spiantato fuori sulla neve si trova in Crimea che è una sorta di terra di nessuno tra la Russia e la Germania o meglio si trova in Crimea gliene frega molto sotto la neve tra i rottami e viene ritrovato una tribù di nomadi tartari che lo prendono lo cospargono di grasso li buttano addosso la lana cioè io immagino che la lana e il grasso formino una sorta di bozzolo e in questo bozzolo dice gli serve a ritrovare il calore che effettivamente è molto sensato cioè quando io ero piccolo mi dicevano che i ciclisti mettevano i giornali sotto la tuta però anche il grasso e la lana infeltrita non sono male immagino che le tribù nomadi abbiano più grasso e lana che giornali dopo 12 giorni lo tirano fuori sta bene gli chiedono di far parte della tribù e lui ovviamente rifiuta perché sapete come sono i tedeschi specialmente in periodo nazista mica puoi entrare in una tribù nomada tra l'altro a un certo punto i tedeschi lo ritrovano lo portano a casa e dico cazzo ti sei schiantato con l'aereo il tuo compagno è morto sei rimasto senza sensi ti ha salvato una tribù nomada pensione militare è risolto no paracadutista adesso non è un po' ironico il tuo problema era che ti sei schiantato in territorio pseudo nemico e ti mandano come paracadutista così ti ritrovi in territorio nemico però immagino che in quegli anni i nazisti non potessero andare tanto per il sottile forse c'era un certo bisogno di uomini paracadutista sul fronte occidentale verrà di nuovo ferito e riceverà grazie a questo una medaglia al valore per aver subito più di 5 ferite in battaglia che poi più di 5 sono 6, 7, 10, 15 poco dopo la Germania cade poi si viene catturato dagli inglesi ma in realtà neanche per troppo insomma qualche mese nel 1944 e di nuovo a casa pronto per fare l'artista come se niente fosse 1953 si laurea come scultore e ironia della sorte pochi anni dopo parteciperà a un concorso per costruire un grande memoriale di Auschwitz Birkenau concorso che grazie a Dio non vince comunque nel 1961 diventerà finalmente professore di scultura monumentale cosa che lui di fatto non ha mai fatto ma finalmente gli chiedono di fare la sua prima esposizione la prima performance di Boyd si chiama How to explain art to a dead hair cioè come spiegare l'arte a una leppe morta ma cazzo ve la spiego questa ok funziona così le persone entravano al museo e c'era una piccola finestra dalla piccola finestra si vedeva Boyd seduto su una sedia con una lepre morta in braccio una lastra di metallo attaccata a una gamba il viso cosparso di miele con attaccate le foglie d'oro e passava il tempo andando in giro per la stanza a spiegare alla lepre morta il significato dei quadri appesi alle pareti faccio prima a farvi vedere una foto che è stata definita la gioconda del ventesimo secolo anche se secondo me è più la dama con l'ernellino del ventesimo secolo se proprio vogliamo su questa opera potremmo dire di tutto che ne so che cazzo sta pensando o in che termini sta spiegando l'arte alla lepre ma se vogliamo essere un po' più seri si può dire ad esempio che il miele è il simbolo di una società ideale perché il mondo delle api è un mondo collaborativo che il ferro è un elemento che collega alla terra perché viene dalla terra ed è pesante anche se si chiama metallo di marte si può dire che l'oro ha un ruolo nell'arte che viene usato come decorazione che è prezioso insomma si può dire un po' di tutto ma preferisco leggervi quello che Boyce ha detto di quest'opera mettendomi il miele in testa sto chiaramente facendo qualcosa che ha a che fare con il pensiero chiaramente la capacità umana non è produrre miele ma pensare è fin qua mi sembra ma pensare, produrre idee in questo modo il carattere mortale del pensiero diventa di nuovo realistico perché il miele è senza dubbio una sorta di sostanza vivente anche il pensiero umano può essere vitale ma può essere anche intellettualizzato a un livello mortale e rimanere morto ed esprimere la sua scadenza ad esempio in campo politico e pedagogico oro e miele indicano la trasformazione della testa e quindi naturalmente e logicamente del cervello e della nostra comprensione del pensiero e della conoscenza di tutti gli altri livelli necessari per spiegare l'immagine di una lab e così indubitabilmente è tutto più chiaro comunque tutto diventerà più chiaro nel 1963 quando fa l'opera The Chief Fluxus Shunt Cosa è più difficile da tradurre? Credo che il significato sia il canto continuo del capo tribù e credo che sia un richiamo alla situazione in Crimea lui si fa mettere a volte nella coperta di feltro piuttosto lunga in una stanza vuota ai due lati dalla coperta di feltro vengono messi due lepri morte perché ha un feticcio per le lepri morte o perché sono facili da trovare, non lo so comunque viene messo là ci vengono messi dei microfoni e sono collegati a degli autoparlanti fuori dove gli spettatori possono sentire lui che cerca di spiegare qualcosa con un linguaggio non umano cioè fa tipo dei grugniti per ore, forse giorni ora non mi è chiaro se stesse cercando di spiegare qualcosa alle lepri morte o contro le lepri morte o se semplicemente stesse soffocando nella coperta e cercasse di chiedere aiuto comunque questa è la performance ma arriviamo all'apice di Boyce e questa volta niente lepri morte anzi niente animali morti cosa succede? fa un'opera che si chiama I like America and America likes me cioè mi piace l'America e io piace l'America Boyce prende un aereo per New York decide che lui neanche deve mettere il piede a terra un'ambulanza lo va a prendere dalla scaletta dell'aereo lo mettono dentro una coperta di feltro perché lui ha questo feticio per il feltro e lo portano al 409 di West Broadway cioè in un museo di arte contemporanea lo mettono in una stanza e insieme a lui mettono un coyote vivo! rendetevi conto della novità non è una lepre ed è vivo passa nella stanza tipo 8 ore al giorno a volte una coperta di feltro appoggiato un bastone da pastore a volte fa delle cose che ne so dei gesti simbolici chiaramente il coyote se ne è fotte il coyote va un po' in giro a volte fa un po' brandelli un pezzarola coperta eccetera Boyce prende un triangolo prende un guanto lancia il guanto verso il coyote insomma le cose che vi immaginate stavate aspettando che dicessi che il coyote lo sbrana così siete contenti che il mio canale c'è sempre un filare cruento e invece niente non lo sbrana anzi diventano amici l'ultimo giorno il coyote forse preso dalla pazzia non lo so si fa più fino a abbracciare da Boyce prima che vada via e quindi finita la performance Boyce viene rimesso sull'ambulanza riportato in aeroporto e rispedito in Germania così il coyote sarà l'unica cosa che vedrà degli Stati Uniti la spiegazione in questo caso è semplice e ancora una volta ce l'ho da Boyce che ci dice volevo vedere soltanto una cosa degli Stati Uniti il coyote e nient'altro ovviamente poi seguiranno cento pagine in spiegazione ma teniamoci questo perché no coyote in ogni caso non sapremo mai che cosa ha pensato il coyote di questa opera d'arte ma sappiamo che cosa ha pensato Dale Eisinger che è una famosissima rivista d'arte che ha definito quest'opera come la seconda miglior opera performativa di sempre e se volete sapere cos'è la prima vi toccherà seguirmi perché non ve lo dire oggi direi che con un altro artista un po' pazzerello abbiamo finito vi ringrazio per avermi seguito iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto e a presto sono sciolto con tutto chiuso e concentrato sotto la luce sono sciolto sciolto un po' pazzerello